Monte Paone, Miriana Trevisan incanta al Naturium. In una giornata all'insegna della scoperta e dell'approfondimento sul benessere e sulla sana alimentazione, Miriana Trevisan ha fatto visita al Naturium di Monte Paone Lido, lasciandosi sorprendere dalla varietà e dalla qualità dell'offerta dedicata non solo ai vegetariani, ma a tutti coloro che come lei aspirano a un lifestyle salutare. Una sorpresa da Naturium c'è di tutto e di più, sia per i vegetariani che per chi come me cerca di mantenersi in forma e in salute. Vi voglio vedere ovunque in tutta Italia. Siete stupendi, ha commentato entusiasta la Trevisan, testimoniando il suo apprezzamento per l'innovativo concetto del wellness shop proposto dal progetto culturale guidato da Giovanni Sgro. L'incontro ha rappresentato un momento di condivisione e di riflessione sull'importanza di un'alimentazione consapevole, come fondamento del benessere personale e collettivo. Il Naturium si distingue per la sua proposta unica nel panorama italiano, unendo sotto lo stesso tetto prodotti alimentari selezionati per la loro qualità e beneficio sulla salute, con l'obiettivo di promuovere uno stile di vita equilibrato, attraverso scelte alimentari consapevoli. Giovanni Sgro, fondatore del Naturium e promotore dell'omonimo progetto culturale, ha accolto Miriana Travisan, illustrando la filosofia e gli obiettivi che animano l'iniziativa. La nostra missione è la consapevolezza, sapendo che dal buon cibo parte ogni passo verso la felicità e la salute, ha dichiarato Sgro, sottolineando come il Naturium non sia solo un punto vendita, ma un vero e proprio spazio culturale dedicato alla diffusione di un nuovo approccio al cibo e al benessere. La visita di Miriana Travisan al Naturium non solo ha messo in luce l'importanza di un'alimentazione sana e naturale, ma ha anche rappresentato un'occasione per ribadire l'urgenza di un cambiamento culturale a favore di pratiche di vita più sostenibili e attente al benessere del corpo e della mente. Un messaggio che attraverso le parole di Travisan e l'impegno di Sgro aspira a raggiungere un pubblico sempre più vasto, con la speranza di vedere iniziative simili al progetto culturale Naturium fiorire ovunque. Miriana Travisan oggi è al Naturium e ci ha sorpreso perché veramente... Sono preparata, sono preparata anche perché guardate, devo dire la verità, io non me l'aspettavo, ma hanno veramente di tutto e di più, sia per i vegetariani, sia per come me, insomma cerca di mantenersi in salute e sono raffinatissimi, preparati, meraviglioso. Io vi voglio anche a Roma, anche a Napoli, intro e per tutto. Grazie, è un bel augurio, grazie per la tua visita. Grazie, questo è per te, sono degli omaggi da parte di Naturium, spero di vederti presto qui con noi, grazie ancora per la tua visita, ci hai veramente fatto un regalo, è un grande piacere averti conosciuta. Grazie a voi, io mi voglio vedere ovunque. Grazie, ancora un bel augurio, grazie. Dopo la visita al Naturium, Mediana Trevisani, insieme all'imprenditore Sgro, ha fatto visita alla palestra Flex Gym. Benvenuta sia al Naturium che alla palestra Flex Gym, come ha trovato queste strutture? Allora, straordinaria, molta preparazione, sembra di stare un po' a Los Angeles e quindi complimenti, veramente. Complimenti a Gianni, complimenti a queste strutture, sono complete, insomma per ristrutturarsi fisicamente. Quali consigli per il benessere sia sull'alimentazione che sullo sport? Allora, sicuramente lo sport fa bene la mente anche al corpo, ma tanto la mente. Abbiamo bisogno di una mente sana e di un corpo sano, quindi l'alimentazione più lo sport, sicuramente in questo paese, in questo momento di grande stress e di grande paura, è un modo per stare meglio e essere forti. E sull'alimentazione? Che consigli può dare? Allora, sull'alimentazione adesso siamo informati, è molto avanzato tutto, di stare attenti comunque a quello che acquistiamo. Zero zuccheri, se avete zero zuccheri bianchi, perché per me sono veleno, ma anche diciamo per i nutrizionisti e niente, di seguire un buon nutrizionista e di venire in queste, come si possono chiamare, come lei chiama? No, centri fitness, ma wellness shop, io li aprirò in tutta Italia, perché sarebbe un modo per essere più completi, no? Sia col cibo che con lo sport. Ho trovato la Calabria. La Calabria, io, ragazzi, mi devo dire, io vi amo, voi e i vostri occhioni. No, la Calabria mi fa sempre delle sorprese, mi lascia sempre dei doni e quindi bisognerebbe veramente, non lo so, dargli un premio mondiale. Sì, abbiamo lanciato questo nuovo nome, wellness shop, cioè Naturium diventa il primo wellness shop in Italia. Cos'è? È un insieme di fattori che crea benessere, perché l'alimentazione sappiamo che riveste un ruolo fondamentale nell'ambito della salute e del benessere e poi però deve essere coordinata naturalmente, ovviamente, con un allenamento specifico per i vari distretti muscolari. Il bodybuilding è veramente la base di tutti gli sport, la base per poter mantenere un corpo in forma, tonico e in salute, perché la salute viene se c'è un benessere generale. Quindi wellness shop sarà veramente il nostro cavallo di battaglia per la stagione 2024-2025. Con Naturium di Monte Paone Lido abbiamo veramente sbalordito tutti i consumatori che seguono questa linea del benessere, che vogliono che l'alimento sia salute. Noi abbiamo trovato tutti gli alimenti migliori che ci sono in Europa e li abbiamo coniugati tutti all'interno di Naturium. Quindi aperto orario continuato dalle 9 di mattina fino alle 20 di sera e poi la palestra, le palestre ce ne sono tante. Noi vi diciamo la Flex Gym, ma potete andare a Chiaravalle piuttosto che a Soverato, ad altre palestre, a Badolato. L'importante è mettersi in forma, mantenersi, perché l'allenamento muscolare è fondamentale per una salute generale.